Marizio Fugatti, lei ha detto che il Presidente del Consiglio Ricoletta è meglio che si occupi di calcio, perché? Chiaramente è una provocazione perché in questi giorni il Presidente eletta si è occupato delle questioni degli stadi, è andato al Coni, ha parlato di questioni sportive e in queste situazioni ha anche parlato della ipotetica crescita che ci dovrebbe essere nel 2014, dicendo che gli indicatori macroeconomici non sono così chiari nel dare la crescita, ma che lui è convinto che ci sarà. Nel frattempo però l'Europa ha messo in chiaro che su alcune questioni come il debito pubblico, le riforme istituzionali, il caos della pressione fiscale, questo governo sta facendo relativamente poco o nulla. E allora abbiamo fatto quasi una provocazione, eletta, continua a parlare, 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 poi viene smentito, poi il fatto che ci sia questa crescita, lui stesso non abbiamo ancora i segnali, però ci sarà e lo fa all'interno di ambiti sportivi, abbiamo fatto questa provocazione, ma che però porta purtroppo il senso della realtà economica di questo Paese. Letta ha detto che la ripresa sarà nel 2014, lei è d'accordo? Ci avevamo detto che era una fine del 2013, qualche mese fa, nel 2014 il governo aveva previsto una crescita dell'1,2%, l'Istat l'ha rivista allo 0,8%, il fatto che ci sia questa revisione del PIL comporterà che il rapporto deficit di PIL non sarà quello che il governo aveva pensato, comporterà che il livello della pressione fiscale che è calcolata in base al PIL non sarà quello che il governo aveva pensato e purtroppo negli ultimi anni le previsioni dei governi sono sempre state smentite in materia di crescita del PIL dal dato reale e definitivo. Quindi se l'Istat oggi dice che sarà il 0,8%, noi abbiamo la paura che se non c'è un'inversione di tendenza delle politiche economiche questo 0,8% alla fine non si raggiungerà.